La virtù è cotta Allora, l'eco del santuario Siamo salve, intanto buona Pasqua, buon venerdì santo 2010 E cosa si prospetta per questa professione? Ma guardi, dopo la pioggia dell'anno scorso Paolini, Paolini, levati no Per favore stringi Ci sia del sole, insomma, per asciugare I vestiti che l'anno scorso ancora non si sono asciugati Ma anche le lacrime versate La 1, la 2 o la 3? La 4 E lo sforzo fisico si trospetta per questa professione Lo sforzo fisico si trospetta per questa professione Questa 30 è tantissimo crocifisso La raccolta l'ha fatta differenziata? Sì Cioè speech e granasani Siamo a norma con tutte quelle che sono le norme europee Quindi differenziamo le carte da 10 Da 5, da 20, 50, eventualmente, 100 Sì, ma è un'eventualità Direi Sì, è un'eventualità Bene, abbiamo altri testimoni comunque Ringraziamo il maestro Ringraziamo Paolini Grazie a tutti Venerdì santo 2010 E tutto Agrigento Agrigento Grazie a tutti